Era la prima volta che venivo al centro serie in presenza e tutta un'altra esperienza, molto piacevole. Poi avere, ero fortunatamente seduta in prima fila e avere qualcuno di così vicino davanti a te mentre parla è piacevole. Sembra proprio un incontro diretto fra un esperto che viene da te a spiegarti, in particolare perché ci tiene a te, perché ci tiene che tu sia informato su un argomento, quello che lui sa meglio. Personalmente poi mi piace sempre quando qualcuno viene ad informarmi su qualcosa che non so. Tendo ad essere piuttosto curiosa e quindi mi piace anche quando magari uscendo un po' dalle materie o da quello a cui sono abituata, qualcuno viene a spiegarmi anche solo perché a lui piace l'argomento, perché ne sa molto qualcosa che non sapevo e che può arricchirmi a livello culturale. Poi come ha già detto prima il nostro oratore, è importante in questo momento imparare a non farsi fregare, manipolarsi e credo sarà anche utile un po' per il mio futuro successivamente.